Potrei spararti in faccia adesso, Tarantini. Non sei il tipo che farebbe una cosa del genere. Non è questo il momento di regolare i conti. Io passo dal retro. Io do la porta principale. Tornate a casa. Trocate le strade. Alziamo la barricata al carro. Presto, presto. Nessuno deve mollare. Porta, porta. I campi neri. Amato. Silvia, aiutami. Tu lo sai che non potremo più tornare in Italia, vero? Io lo so. Io lo so che stai facendo il possibile per me. E non appartengo al tuo mondo. Ciao. Ciao. Mi hai mangiato? No, ma non ho fame. C'è una minestra di verdure buona. Te la riscaldo? Va bene anche fredda. Chi le paga le lato in macchia? Eh? Chi ti ha comprato l'emologio che ti piaceva tanto? Baffanù! Vai, scappa, scappigliato! Non stai nemmeno a rendere una conversazione! Oggi ho ritrovato i tuoi occhiali. Non stai nemmeno a rendere una conversazione! Non sono qui per Silvia. Ma c'è Giorgia con gli amici, cioè Fabio, ma sei pazzo! Sì. E te? Sì 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 Sì